Erano da poco passate le 8 dello scorso 20 settembre quando per un malfunzionamento scattò l'impianto antincendio dell'archivio di Stato di Arezzo dal quale fuoriuscì Gas Argon che non lasciò scampo a Filippo Bagni e Pietro Bruni. I due impiegati quella mattina scesero le scale del palazzo di via del commissario sino al Bano dove si trova il sistema ed il gas invisibile e inodore li asfissiò. Ad un anno di distanza da quel drammatico incidente la città torna a stringersi attorno al dolore delle famiglie. È stata infatti organizzata una giornata in memoria dai due impiegati ai quali sarà intitolata la sala studio dell'archivio di Stato. In città per l'occasione arriverà anche il sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali Lorenza Bonaccorsi. Ma non solo, tante sono infatti le iniziative per rendere omaggio a Filippo e Bruno, tra queste anche una messa commemorativa in Duomo e un concerto dell'orchestra multietnica all'Anfiteatro Romano. Aperture straordinarie anche dei musei statali di Arezzo e provincia. Il tutto sarà destinato alla raccolta di offerte a favore delle famiglie delle due vittime che continuano a chiedere verità e giustizia. Sono infatti molti ancora gli interrogativi sull'incidente in cerca di risposte. A breve dovrebbe essere depositata la relazione della consulenza disposta dalla procura di Arezzo. Stando alle prime indiscrezioni, la causa della tragedia potrebbe essere riconducibile ad una valvola di sicurezza dell'impianto montata male, al contrario, in una stanza senza sfiati. Per il drammatico incidente, la procura di Arezzo, che indaga per omicidio colposo plurimo, ha iscritto nel registro degli indagati 15 persone, tra dirigenti, tecnici, addetti a manutenzione, progettisti e operatori della formazione e sicurezza.